L'ospedale di Padova entra a far parte dell'Euracan, il network di eccellenza europea sui tumori rari. Si tratta di neoplasie di per sé abbastanza diffuse, circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati, ma che tra le centinaia di varianti conosciute si configurano come rare in quanto hanno una bassissima incidenza, al di sotto dei 6 casi ogni 100.000 abitanti. Con l'ingresso in questa rete, un percorso iniziato ormai due anni fa e coronato dopo rigorosissime valutazioni, l'azienda ospedaliera entra a far parte di un network, circa 200 i centri in Europa, di condivisione di conoscenze, ricerca e innovazione, ma soprattutto cura dei pazienti, che proprio per la rarità delle loro patologie rischiano di non trovare i giusti trattamenti. Un conoscimento importante che arriva dopo due anni di lavoro, insieme con il Ministero della Salute, con la rete di eccellenza in cui entriamo a far parte, e della Commissione europea. Per arrivare a questo traguardo, l'ospedale di Padova ha accumulato 25 anni di esperienza diagnostica e clinica, accogliendo pazienti da tutta Italia e anche dall'estero. Delle 12 famiglie di tumori rari, in questa rete europea, Padova si occuperà di 5 tipologie precise. La nostra scelta, proprio partendo dalle aree di esperienza che noi abbiamo sviluppato in questi anni, sono i tumori rari della parete toracica, e quindi per esempio il mesotelioma, tumori rari della regione capocollo, per esempio i carcinomi del tratto senonasale, i sarcomi dell'osso, i sarcomi in generale. Abbiamo poi i tumori rari gastrointestinali, ed infine i tumori neuroendocrini, che sono tutti rari per definizione.